Ehi, questo lo mettiamo insieme a quelli del 46? Sì, credo che ai nostri pupi farà piacere. Sono così carucci. Vieni, cocco, vieni. Ah, lo sai? Sono l'esempio del penitenziario. Ieri hanno voluto parlare per forza con padre Brown. E che volevo? La grazia. Davvero? Sì. Beh, a loro piace, pregare. Ecco, cocco, siamo quasi arrivati. Pupi, c'è un nuovo ospite. Ti presento Frank Obra, sei omicidi. Ah, questo è Dusty Reiner. Deve scontare cinque ergastoli. Come lo chiamano? Mammola. Eric Van Dyck, l'olandese. Uccide perché si annoia, dice. Eric Coleman, alleva canarini per il gusto di strozzarli. Piacere. In piedi, figliolo, tirati su. Avanti. Mo' quanto sei pigro. Non vedi che è tutto in disordine? Sei promosso cameriere. Puoi cominciare ora. Pulire il cesso, rammazzare, rifare il mio letto, lavare la biancheria sporca e farlo subito. E perché dovrei farlo proprio io? Perché qui dentro vale la legge del più forte. Del più forte non sei certo tu. Ho capito. Che briscole. Mamma mia. Come si divertono i pupi, eh? Ma così va a finire che l'ammazzo. Le vuoi appuntare, unghie? Ho messo due zollette. Senza. Te lo rifaccio subito. Ehi, ma che succede? Sono tutti passi qua dentro. Basta con i giochetti. Diamogli una bella strigliata. Tutti faccio a buro. Voletevi, forza. Fate i bravi, i pupi. Sì, sì, non si preoccupi. Oggi doppia razione d'aria. Tutti faccio a tu. gwirgi,照 Rossi. Giovanni è accolato. Autore difu, Fino Biola,